Eeeh, benvenuti per chi mi ha messo un video di Fortnite Ragazzuoli, ragazzuoli, siamo qua per un motivo semplice, un motivo facile, un motivo che vi ruberà soltanto un minutino Mi hanno finalmente dato il codice creatore di Fortnite, yes, yes Con questo mi hanno dato anche la possibilità di avere i server privati, ragazzi Vi faccio vedere immediatamente come fare per attivare il codice, è facilissimo Andate su Fortnite, andate nell'item shop, nello shop Qua sotto c'è supporta creator, io ce l'ho già logicamente, supporta creator Bricks Scrivete BRICCHS, maiuscolo, minuscolo, cambia poco Una volta fatto questo fate accetta e se volete shoppare, voi potete shoppare tranquillamente Usate semplicemente un piccolo aiutino, parliamo ovviamente di una Dovrebbe essere un po' ogni 10.000 V-Bucks, mi date un suo, boh, qualche dollaro Ma parliamo di, non arriviamo neanche a 10 dollari Saranno 5 dollari, 4 dollari ogni 10.000 V-Bucks Quindi non preoccupatevi Però è un modo come un altro per supportarmi Oltre questo, logicamente, mi piacerebbe che ogni volta che usate il codice creatore Per shoppare una skin, una, non so, un piccone, un balletto, quello che volete Mi fate una bella storia su Instagram, mi taggate così posso ritaggarvi Io ho già fatto la prima shoppata Ragazzi, sono andato a comprarmi, adesso non c'è più logicamente Sono andato a comprarmi D.Va D.Va, molto carina L'ho settata così, vabbè, D.Va con il suo backpack La sua picconazza, il suo piccone Ho messo questi qua Un, delle coperture molto, diciamo, argente Che comunque non sono brutte, sinceramente E andiamo a provarla in solo, in singolo Quindi, cupia d'osso e buona visione Ok ragazzi, 5 secondi dal lancio dell'autobus A me dispiace perché è un po' lontanuccio Ma io le nuove skin, tutte le nuove skin che ho comprato Le ho sempre inaugurate a Misty Middles E quindi ci buttiamo a Misty Middles Ragazzi, questo qua è un video che potrebbe durare un minuto e mezzo Perché scendo, bam, ammazzano E finisce lì Oppure potrebbe durare, boh, 20 minuti Io taglio i grossi, non voglio farne Ho fatto semplicemente un taglio di certo Nell'attesa di caricare la partita, quello ovvio Ma io scendo giù E come va, va Quindi, se dura un minuto e mezzo Vi calcolo il video che durerà 5 minuti a dire tanto Se dura mezz'ora, vi calcolo il video che durerà mezz'ora Lo scoprirete voi Quando io sto pronto in questo istante Avrete capito quanto è durato la partita Perché se Tempo un minuto, la partita si chiude Dite, va bene, Brix è morto Quello non è un lama, vero? No, non parrebbe, andiamo Oh, zan 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 Casa mia, aspettami Eccola qui, ma che bella Oh, ma c'ho il ping azzurro, bello il ping azzurro Mi piace il ping azzurrino E poi in azzurro Blu Più che azzurro Non sento nessun altro Quindi potenzialmente posso Posso farmi un loot Relativamente buono Amica mia Questa è casa mia E casa mia per iniziare Non ha la cassa Stai guarda dice Ma sto calmo mi porta Zio ti ricordo che devo sparare C'è ragione C'è ragione ti ho portato in una casa senza casse Non è copa mia Però ti do i scildini I scildini ma vabbè No No comunque ragazzi a me Misti Midos piace per un botto Di motivazioni diverse Posso potenziare Le armi Che non è facile dappertutto Ma che bello 1,2 e 100 Uh belli ingottozzi Che sempre schifo non fanno Qui c'è un'altra di quelle Eccole qua Quello che volevo vedere Perfetto E per iniziare Facciamo così Poi appena Faccio un giro E per caso Trovo Un assalto Un po' più bellino O qualcos'altro Allora Nel caso vado a potenziarlo Di certo lo scarno Lo potenzio Ok Questo è buono Mannazza Devo lasciarla qua Ma quanti Vabbè Ok allora Ho trovato il pompa Blu Sì pompa carica Oggi la giochiamo col pompa carica Non mi frega niente Ma voi Che paura Mi ha fatto questo A me è te Mi ha fatto paurissima Mamma mia Pompa carica Blu è già buono Magari lo faccio No Blu Blu va bene Blu va bene Blu va bene Comunque ragazzi Una kill fatta Quindi già il video È già buono Flopper Ottimo Flopper Ottimo Flopper La safe È relativamente vicino Quindi posso farmi Tutto il giro Di brughiere Senza preoccuparmi Più o meno Prima di potenziare le armi Direi che Mi giro Brughiere Bello 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 Io farei così ragazzi Onestamente Lo so Lo so Lo so Ma Quello lì È Uuu Va bene Va bene Va bene Va bene Ho preso il tac Blu Allora forse è stata la differenza Fra il pompa verde La Il pompa schifo verde Con il pompa schifo verde Ma il tac è più veloce Veo che fa molto più danni Il pompa schifo Però il tac è velocissimo Ragazzi E io voglio il cecchino Vedi Ah qui c'è gente C'è gente C'è una cassa Oh My God Ma dai Ok lì si sta sparando qualcuno Vengo a prendere Non ti ciccio Ora Aia Tacchiappo Eh Lascio qua un bot Questo è un bot È un bot Sapete come si conosce un bot Che spara 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 E non prende un colpo Ok Allora Io dicevo che voglio pescare A parte Il bottaccio Che Vole a solo rompermi le scatole E la cassa qua Che magari mi dai Ehi No vabbè 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 Facciamo così Faccio il tempo Sì Faccio il tempo Io ragazzi Voglio tornare Dove c'erano le Dove c'era il codo Che mi porto via I flop Mi porto via Il Gli scudoni Dovrebbe essere qua A memoria Lo scudone Tipo qua No Non è qua Però è qua In giro No Per diavolo Che avevo visto Lo scudone Qua sopra Io mi ricordo Che avevo visto Lo scudone Non è che sono pazzo O magari Sono pazzo No ma c'era Uno scudone Vuol dire che è qua Sì è qua E qua E qua E qua E qua E qua Ok 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 Era qua dentro Perfetto Ce ne andiamo Direi macchina A fin fine Non ho trovato Un assalto decente Meglio di quello verde Ma vabbè Fa niente Vabbè Vabbè Inviate Ottimo Ok Direi che Tre Scildoni Magari qua dentro Trovo anche Un assalto Più decente No Comunque tre Scildoni Due flopper Vanno bene Vanno bene Se mi va di fortuna Posso pescare Al volo Magari un altro Clopper Sì Perfetto C'è per caso Una pozza Qua in giro Sì La pozza C'è Ok Fatto Prendilo E via Yuhuu Ragazzi Allora A parte l'assalto Sono messo Veramente bene Ho un bel pompa Il cecchino Che comunque Lo so Abbastanza Utilizzare Non sono un fenomeno Però Diciamo che Me la cavicchio Siamo 16 left C'ho due kill fatte Adesso mi serve Tanto Un assalto Fatto meglio Che magari What Niente C'è chi Niente Assalto Niente Assalto Uhuh Eccoti qua Ciccio T'ho visto Sai Uh L'assalto blu Ok Se quello Restasse fermo Anche su Un secondo Per pescare E' una Headshot Facile Facile Lo sapete Eh Però Non resterà Mai Fermo Così Tanto Lungo Così Invece Però Aspetta Io Quasi Mi avvicinerai Ancora Un po Lo sapete Così Mi avvicinerai Ancora Un pochetto Così Ho il proprio Più facile Dai Ah Incastra Va bene Va bene Perché Non mi faccio i cavoli miei Me lo spiegate Vabbè Ragazzi Io per questo video Vi saluto La cosa importante Per oggi Era avvisarvi Che Abbiamo Il co-gecratore Attivo Finalmente Dopo mesi e mesi E i server Privati Vi aspetto Tutti i giorni In live Ricordo di Commentare Se non mi piace Con il video Iscrivetevi E attivare La campanella Detto questo Vi saluto E Addio Grazie Per Pesce Ciao ragazzi Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima